Solo su 11 Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Un punto, molta fatica, buone occasioni. La Triestina in formato trasferta esce con un pareggio dalla sfida contro la San Benedettese dopo una gara impegnativa e a tratti sofferta, spezzata però dalla qualità dei rosso labbardati in grado di creare ottime trame di gioco. A rompere gli indugi dopo 90 secondi è mensa per la Triestina, che si invola sulla sinistra per poi calciare col destro giusto un soffio sopra la traversa. Al nono una carambola finisce tra le mani di Santurro. Un minuto più tardi la Samb con Cernigoi arriva vicinissima al gol con un tiro sottoporta deviato da Offredi. Alla mezz'ora la Triestina a campo ma non sfrutta, a dovere il 3 contro 2 è innescato da mensa. La palla scivola comodamente fra le mani del portiere. I padroni di casa, sette minuti più tardi, trovano il gol con Cernigoi con un calcio in tuffo. Il giocatore però viene pescato in posizione irregolare dall'arbitro che annulla tutto. Segue un'azione altrettanto bella ma sempre irregolare per la posizione dell'uomo e della Samb oltre la linea dei difensori. Si entra dunque negli spogliatoi sullo 0-0. Dopo la pausa si rivedono i padroni di casa con un tiro impreciso, a cui segue al 58esimo un ennesimo calcio in porta mandato a lato. Troppo alta anche la punizione battuta poco dopo, mentre decisivo al 63esimo il difensore Giuliano ad anticipare l'avversario. La Samb ne ha di più e conclude ancora una volta in porta ma senza trovare lo specchio. In casa triestina alcune sostituzioni cambiano il volto della formazione. Uno dei neoentrati, Ferretti, assiste egregiamente Gatto che di prepotenza coglie il palo a portiere battuto. Passata la paura la squadra locale ritorna a farsi sotto senza esito. Quando mancano 10 minuti e il novantesimo l'ennesima avanzata dei ragazzi di Montero viene respinta dalla difesa e dopo 3 minuti oltre il tempo massimo l'arbitro pone fine alla contesa. Ogni squadra si prende un punto, da un lato la buona verve della San Benedettese a provarci di più, dall'altra le occasioni ghiotte della triestina a far capire che la qualità di questa squadra può far male in ogni momento. Solo su 11 Sports la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend.